Diocleziano affrontò il problema dell'efficienza e della stabilità del governo imperiale realizzando nel 293 d.C. un'importante riforma, la tetrarchia. Il termine deriva dal greco tetra, quattro, e archè, potere, dunque potere dei quattro. Il governo dell'impero fu inizialmente diviso tra due imperatori, Diocleziano e Massimiano. Essi presero il titolo di Augusti e posero le loro sedi rispettivamente a Milano, in occidente, e a Nicomedia, in oriente. Le due nuove capitali avevano una posizione strategica migliore di Roma, poiché erano vicine alle zone di confine soggette al rischio di invasione. Roma rimase la capitale morale dell'impero e conservò il suo prestigio, ma era ormai lontana dai centri del potere. Qualche anno più tardi questo governo a due o di archia si trasformò in tetrarchia, o governo dei quattro. Diocleziano nominò due vice-imperatori che presero il titolo di Cesari, Galerio e Costanzo Cloro. Costoro erano destinati in prospettiva futura a succedere ai due Augusti. Diocleziano, che controllava la parte orientale dell'impero, proclamò Cesare Galerio e gli affidò le province balcaniche e danubiane. Massimiano, l'altro Augusto che governava la parte occidentale dell'impero, nominò Cesare suo genero, Costanzo Cloro, e gli affidò la Gallia e la Britannia. Il sistema prevedeva anche le modalità della successione. Alla morte di un Augusto, infatti, il suo Cesare sarebbe diventato Augusto e avrebbe nominato un nuovo Cesare e così via. La riforma aveva lo scopo principale di sottrarre la nomine imperiale all'esercito e di porre fine alle guerre civili per la conquista del potere. Inoltre, il decentramento del potere poteva garantire una migliore difesa dei confini e una più efficace amministrazione dello Stato. Questa distribuzione dei compiti e dei ruoli, tuttavia, non corrispondeva a una vera e propria divisione dell'impero, poiché il supremo potere spettava sempre a Diocleziano.